Siete in cerca di un sistema d'allarme semplice da installare e facile da gestire? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve la svelo tra poco qui su TechPrincess. Questo è iSmart Allarme Essential Pack ed è pensato per farvi sentire al sicuro in casa vostra in maniera semplice ed economica. Si tratta di un sistema di sicurezza che potrete gestire comodamente tramite un'applicazione dedicata. La prima cosa da fare è l'installazione. Niente paura però, iSmart Allarme è perfetto anche per essere facile da installare, quindi vi basteranno pochi minuti per completare la configurazione. Tutto ciò che dovrete fare è collegare la centralina principale chiamata Cube One al router di casa e alla corrente elettrica. A questo punto potete prendere i sensori inclusi nella confezione ed installarli vicino a porte e finestre. Il tutto ovviamente senza forare il muro. Una volta terminato siete pronti per gestire tutto tramite l'applicazione disponibile gratuitamente sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. L'app iSmart Allarme vi aiuta ad attivare e disabilitare il sistema e a gestire singolarmente i diversi sensori collegati. Non manca anche un comodo sistema di notifiche che vi allerta in caso di intrusioni e la possibilità di verificare quali membri della famiglia sono entrati oppure usciti di casa. L'Essential Pack include inoltre una videocamera con cui potete vedere e sentire in tempo reale quello che succede a casa. In qualsiasi momento poi sarà possibile avviare la registrazione video oppure scattare delle fotografie. Tutto questo funziona senza alcun tipo di abbonamento. Insomma, una volta acquistato iSmart Allarme il vostro allarme sarà attivo e funzionante per sempre. E se cambiate casa? Nessun problema. Non solo potrete smontare e rimontare tutto in pochi minuti ma potrete anche aggiungere nuovi dispositivi al vostro sistema d'allarme. Sullo store dedicato infatti vengono venduti separatamente sensori, videocamere e telecomandi. Così sarete certi di monitorare tutta la vostra abitazione. Direi che anche per oggi è tutto. Voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! Ciao!